Ciao a tutti ragazzi, sono Spyderook e benvenuto in questo nuovo video di Naruto Shippoodle To Madden Ninja Storm Revolution Allora Forse è un po' esagerato, eh? Comunque, andiamo su scontro libero e iniziamo a fare altre cose nuove, nuove, fresche fresche Di giornata a giornata Tanto sono... le sei e un quarto, va bene, va Allora, di sera Allora, ragazzi Non so, faccio campionato In questa modalità può disputare incontro organizzato in un campionato Affronti il tipo di battaglia più semplice Torneo a sfida, altri partecipanti in torneo a 4-8 Scopre quanti combattimenti riesce a sostenere con una sola barra di energia Eh, questa qua sarà lunga Questo qua invece è da resistere Affronti il tipo di battaglia più semplice In questa modalità può disputare incontro organizzato in un campionato Forse campionato Ad estremamente non interessa, personalizza il personaggio non interessa Proviamo a fare il campionato, ragazzi Campionato, battaglia di libri, campionato mutevole Eh, diverse vere di difficoltà Di difficoltà Inizioni speciali Ah, allora questo qua Campionato mutevole Facciamo numero giocatore, cos'è qua? Ah, solo io? Sì Molto difficile, ragazzi Molto difficile voglio dire le cose Con voi semplici Comunque Chi sceglieremo? Ma chi sceglieremo? Naruto? Eh No, dai Naruto no Vuoi scegliere qualcun altro Ha qualcun altro Tipo Minato Resurrezione Naruto Con tipo Tecnica Suprema O no O sì o no Sì o no Fammi pensare No 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 Ma sì Però Aspetta Allora Uno sceglie con Naruto E l'altro Sceglierò Dove sta? Sasuke Salasuke Sasuke Salasuke Oppure questo Shisui Qua Shisui Oppure Questo qua Madara vivo Facciamo Madara vivo Ragazzi Ma sì Facciamo Madara vivo Tipo risveglio Voglio fare Degli altri Sceglierò Allora Farò casuale Sì tanto sono tutti Sì facciamo casuale Va Oh Oh Abbastanza difficilino Eh Facciamo pure casuale Va Vai Ok io contro Che devo fare? Ah contro Sasuke Lasuke Va bene Vediamo Allora io La velocità Di movimento Di entrambi I giocatori È rallentata Va bene Slow motion Condizioni Entrappi Ciò Subiscono Danni Pesanti Ma Allora Facciamo Un Terreno Erboso Chiaro Da vedere Ok Ragazzi Mi raccomando Ragazzi Commentate Sempre Nei video Non vi Dimenticate Non vi Non vi Dimenticate Perché Allora Condizione Una velocità Di movimento Di entrambi I giocatori Rallentati Ok va bene Non vi Dimenticate Di commentare Ecco E' beccati E' beccati Allora ragazzi Ricordate che siamo Una mobilità Super difficile Quindi Non ci sono Scorciatore E' beccati Questo Via Continuiamo C'è La sicurezza Beccati Questo Aiee Senta Attenzione Ok Ma Ma E' peccato Disgraziatello Come ti permetti Disgraziatello Come ti permetti Guardate che spettacolo ragazzi, dimmi, dimmi, dopo andiamo via Mamma mia, è uno spettacolo unico ragazzi Come avete visto i due sciammincianti di Volpe Novecote Ok, passiamo avanti, questo è stato fatto Stavo ridicendo ragazzi, mi raccomando, nei video non vi dimenticate di mettere un bel mi piace perché ho notato che ve lo scordate, ve lo dimenticate Quindi fatemi il piacere di non dimenticarlo, dai, un po' di pietà per me, è bello vedere qualche mi piace in più nei video Comunque, vediamo come andrà a finire questi due qua, chi vince? Itachi no? Ciao Palermo Ok Ok Itachi vince Adesso devo fare il conto di lui Vedremo le condizioni, quale sarà Il chakra dei due giocatori diminuisce lentamente Va bene Entrambi i giocatori spezzano la guardia facilmente Ah, dobbiamo stare attenti allora Hinata e Sasuke Ok ragazzi Iniziamo subito lo scontro Number 3 Number 3 Fondesso è un tipo Le scontrario Noi La scontrario E' un tipo La scontrario Spagna Come si Questo ci cadere? Ah no! Peccati questo, via! Molete al link pure via! Bravi così! Sì! Ah ma ancora lì! Dio! Come si scappare? Come si scappare? Come si scappare? Come si scappare? Ora è odata? Come si scappare? Come si scappare? Come si scappare? Come si scappare? Camppare? Come si scappare? Come si scappare? Come si scappare? Vabbè eccolo, Dio Bomb! Ah, donnazione! Finalmente! Ok, grado S ottenuto, modalità super molto difficile e impossibilissima da vincere. Ok, punti ottenuti 4. E questa è fatta. Sasuke Itachi, vincerezza. Sasuke, non l'asuke. Eh si, Sasuke B. Ecco qua ragazzi, minato. No, no, Sasuke e Ruka. Vincere la Sasuke. Eh, si, si, come sempre. Ok ragazzi, minato, se la mina con Itachi. Va bene, via. Inizia lo scontro. Con condizioni vedremo. Battaglia termine automaticamente raggiunti i 30 secondi. Ah. Mamma mia, allora qua è una cosa difficile. Ok ragazzi, grande scontro. Le parti speciali Itachi. Contro minato. Rissurri... 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 Ok ragazzi, adesso contro Sasuke Finalista Abilità azione mossa ninja più 5 Ah, questo è buono Molto buono per mettere i miei I miei cloni ninja Non so ragazzi, ma siete riusciti a batterlo? O siete riusciti a vederlo il mio clone? Se si, ditemelo nei commenti Perché il livello 80, se non mi sbaglio È Obito Obito con Madara insieme Che hanno la tecnica suprema Ah no, già ho vinto Minato Namikaze Ok, ho vinto Bene ragazzi, sono campione del mondo Di arti marziali Niente ragazzi Il video finisce qui Ha guadagnato un trofeo Vittoria e campionato mutevole Perfetto Poi faremo il campionato battaglia libera Il campionato sfida Per adesso il video lo terminiamo qui Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando, condividete Mettete un bel mi piace E commentate Mi raccomando Vuoi sapere una vostra opinione Un abbraccio a tutti E alla prossima Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.